Salve carissimi amici tutubi, sono Francesco e bentornati nella soffitta di camera mia o benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla In questi ultimi giorni ho avuto modo di leggere finalmente Infinity Countdown, miniserie di 6 numeri dal prezzo di copertina di 3,50€ contenente la miniserie per l'appunto Infinity Countdown Ma anche, quindi non solo Infinity Countdown, ma anche il crossoverino legato a Darkhawk, qua vi sto facendo vedere tutte quante le cover presenti all'interno di questa miniserie Da cosa partiamo? Partiamo da Darkhawk, inutile, letteralmente inutile, miniserie collegate con lo sputo a Infinity Countdown Praticamente per nulla, in cui mi mostri le vicende di questo personaggio di cui ignoravo l'esistenza fino a quando non l'ho letto nei Guardiani della Glaccia Si ricollega giustamente questa mini con quel capitolo, ma a questo punto quel capitolo poteva far parte integrante della mini Avrebbe avuto più senso, riintroduci questo personaggio dopo tantissimi anni, tantissimo tempo, io non ho alcun interesse a leggerlo E soprattutto la vicenda che mi stai raccontando non è per niente collegata con quello che sto leggendo di rimando a Infinity Countdown Quindi che cosa me l'hai messo a fare panini? Darkhawk qui dentro lo potevi togliere e farmi finire questa miniserie due numeri prima Mi dispiace partire già critico così, ma effettivamente è vero Ho impiegato tempo, spazio per leggere due capitoli perché non l'ho neanche finita Darkhawk Mi ha fatto veramente schifo dall'inizio alla fine Dall'inizio alla fine, i due capitoli che ho letto Mi ha fatto schifo, ho iniziato anche il terzo Ho iniziato anche il terzo, una noia incredibile Non vedevo l'ora che finisse Quindi arrivato a metà del terzo capitolo mi sono detto Basta, non ce la faccio, non la finisco questa miniserie Ed è una cosa piuttosto critica Per quanto riguarda invece Infinity Countdown di per sé Il volume, il primo volume, anzi il volumetto 1 italiano contiene tutto un resoconto Anche piuttosto scritto, con anche una mini, una storia dedicata Che fa, funge un po' da collante Quindi ci racconta effettivamente, ve lo dico che Albo era Perché dovrebbe essere segnato all'interno del volume Era il... c'è un... C'è un sacco di roba Perché c'è l'Albo tratto, qualcosa tratto da Dal free comic book day 2018 americano Che ci fa un po' la sintesi della serie dei Guardiani della classe fino ad adesso C'è la fine dei Guardiani della classe 150 C'è Infinity Countdown, Adam Warlock Capitolo fondamentale per capire qualcosa di più di questo personaggio Che cosa sta facendo Perché ritorna E soprattutto qual è la sua missione Ovvero sia ricercare per Generale Kang Qualcosa del genere Questa entità che non conoscevo Ma comunque vagamente intrigante La gemma dell'anima E la gemma del tempo Una gemma per poterla dare a Kang Con cui puoi riottenere il potere dell'infinito E poi presente nel primo numero Anche un alto prologo Chiamato Infinity Countdown Prime E poi effettivamente Comincia la miniserie Infinity Countdown Che dovrebbe essere per l'appunto Un countdown, un conto alla rovescia Al macroevento Infinity Wars Io ero piuttosto incuriosito Da Infinity Wars Principalmente perché Un elemento della sua Penso conclusione Comunque un elemento molto avanzato Di quella miniserie Mi era stato fornito Da Jason Aaron All'interno della serie Della potente Thor Legato al fatto che Un personaggio specifico Otterrà le sei gemme dell'infinito Il quanto dell'infinito E quindi ero piuttosto curioso Da Infinity Wars Per vedere per l'appunto Come si arrivava Quello status quo Anche perché Di rimando Penso che Quello status quo Se mi è stato mostrato In maniera così evidente Da Jason Aaron All'interno della sua vicenda Vorrà dire Che avrà un suo peso Quindi recuperare Già Infinity Cundown Per poter comprendere meglio L'evento Infinity Wars Mi sembrava piuttosto d'obbligo Avevo recuperato anche Se avete visto Perché il video l'ho fatto I Guardiani della Glassia Almeno la parte Legacy Che era un po' Un prologo A questo prologo Che a sua volta Porterà ad un evento Che avrà un suo Alto prologo Quindi insomma Infinity Wars Ha 2000 prologhi Prima dell'evento In sé per sé Questo Infinity Cundown Mi è piaciuto In molti sui punti I Guardiani della Galassia Non sono personaggi Che Che vorrei leggere Non sono personaggi Che mi ispirano Così particolarmente Ma di per sé Il ruolo che hanno All'interno di questa miniserie Di comunque cercare di Difendere le gemme Dell'infinito Inserite in una dinamica Di squadra Che comunque Ha le sue perplessità Ha i suoi limiti Ha i suoi pericoli Ha le sue sottotrame Insomma Le dinamiche tipiche Di un gruppo Ed è una cosa Che mi è piaciuta Che sia stata esplorata E sia continuata In questa miniserie Ma all'interno di questa miniserie Facciamo anche un po' Il punto di Che fine Abbiano fatto Le gemme dell'infinito Gemme che sono state Modificate dopo L'evento Secret Wars E quindi Non sono le stesse Gemme di prima Ma hanno qualcosa Di diverso A me Non avendo detto Mai nulla Prima di Prima di Thor Non avendo mai visto Gemme dell'infinito A questa parte Nel film Mi cambia poco In realtà Però posso capire Che Insomma Si siano voluti Abbiamo voluto Seguire la colorazione Dei film Per quanto i concetti Che ci stiano dietro Sono gli stessi Non è che sia cambiato Particolarmente Però abbiamo voluto Dare una spiegazione Del perché Di questo cambiamento Ci sta Visto che per Penso Quarant'anni Hai sempre detto Che la gemma Dell'anima Era verde Non lo so I colori Sto sparando a caso Adesso di un altro colore Ci sta Che me l'hai voluta Spiegare Perché Dandomi una spiegazione Un po' così Però Ci sta Il fatto che Tutto è cambiato Perché è cambiato tutto Come spiegazione Un po' misera Però Diciamo che mi va bene Ci viene mostrato Chi sono i detentori Di queste gemme Mostrandoci anche Un pochettino Qualche tafferuglio Qualche battaglia Perché comunque Tutti sono alla ricerca Di queste gemme Perché ben presto Arriverà una minaccia E chi avrà le gemme Sarebbe Di comunque Affrontarla O magari Di Assoggettarsi A questa minaccia Per poter Ottenere Da questa minaccia Se ne arrivo Comunque Dei benefici Qualcosa Insomma Hai ottenuto Per lui Tutto quanto Le gemme del potere Penso che Lui Questa minaccia Ti sarà grata Di questa cosa qua E quindi Ci sono tafferugli in giro Ci sono Sottotrame Magari Rimaste aperte Da molto più tempo Che qui trovano Alla su loro Naturale conclusione E Tutto sommato Come evento Mi ha intrattenuto Mi ha divertito E sarei anche Abbastanza curioso Di vedere Come poi La vicenda Andrà avanti Con Infinity Wars Ma il problema C'è Ed è anche piuttosto Grosso Per come Verrà portata In Italia Infinity Wars Avrà al suo interno Tutto Tutto come Non è vero Però avrà Tutto quello Che riguarda Infinity Wars Quindi Non solo La miniserie Dedicata Con i suoi Tie-in Comunque collegati Ma anche Tutti i Warps Che cosa sono I Warps Probabilmente Si verrà a scoprire Che ci sono Delle dimensioni Parallele In cui Ci sono Delle amalgame Tra Vari eroi Quindi c'è Iron Hammer Che l'ho già visto È molto molto Figo Esteticamente Un'armatura Dei Iron Man Col martello Di Thor C'è Lo stregone Supremo Che Non è lo stregone Supremo Scusatemi Vabbè La fusione Tra la Capitana America E Il soldato Supremo E Dottor Strange Ci sono altre Fusioni Di questo tipo E Ognuna Di queste Fusioni Permettetemi Il termine Avrà la sua Miniserie Dedicata Alcune Magari Saranno Anche più Rilevanti Di altre All'interno Di Infinity Wars Però Non mi piace Il fatto che Mi somministri Quindicinalmente 12 numeri Quindi Mi porterai avanti Sta cosa Per 6 mesi Quindi Fino a giugno E 64 pagine 4 euro Per Un capitolo Che mi interessa Ogni Ogni Numero Se va bene Poi perché La mini Sono 6 Quindi Stiamo parlando Di veramente Numeri Che non Conterranno La mini Serie Infinity Wars Forse 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 Anche un Mese Intero Senza Insomma E oltretutto Mi farebbe Piuttosto Schifo Saltare Di numeri In quella Ho fretta Di leggere L'evento Ma anche No Ma anche No Quindi Aspetterò Di capire Bene Questi Infinity Warps Quanto Sono Focali Fondamentali Per la Comprensione Dell'evento E Poi Valuterò Il da farsi Se recuperare Tutto o meno Anche perché Comunque Ripeto 12 numeri A 4 euro Sono 48 euro La mini Serie Da sola Per quanto Possa essere Lunga Incartonato Marvel Collection Presumo Costerà Non dico La metà Ma Ma Quasi Ma Quasi E Sinceramente Non sono così Sicuro Di voler leggere Tutti Quegli Infinity Warps Di cui Molti Non mi interessano Potrebbe essere Carino Ecco Leggere Iron Hammer Ma giusto Perché Mi piace Thor E quindi Vederne una Sovversione Alternativa Mi potrebbe Comunque Destare Interesse Ma non La vicenda Ma non Quella di Tanti altri Personaggi Secondari Quindi Non Seguirò Infinity Wars Infinity Cundown Mi è comunque Piaciucchiato Cercherò di Rivenderlo Nei prossimi Giorni Perché Comunque Per quanto Mi sia Piaciucchiato Avere Il Prologo Di Un Evento E poi Non Avere L'evento Non Ha Senso Quando Uscirà Questo Cundown E L'evento Valuterò Eventualmente Il Riacquisto Di Cundown E L'acquisto Dell'evento In sé Per sé Per poter Usufruirne Appieno Questo È Quanto Avevo Da dire Per oggi Penso Di Forse Avrei potuto Parlare Di più Dire Qualcosina Di più Però Effettivamente Non Ho Troppo Altro Da dire Qui sotto Nello Spazio Dei Commenti Aspetto Comunque Vostre Dubbi Domande Perplessità Opinioni Contrastanti O meno Con le mie Così Da poterne Discutere Dialogare Con voi Qui Da Francesco Poppo Le mie Spalle Dalla Soffitta Di Camera Mia Non Più Soffitta Tutto E Noi Ci vediamo Ad una Prossima Video Opinione Del Canale Ciao